Ciao, tra le tante proposte del centro didattico, presenti nel quaderno dell'attività per le scuole del Museo Regionale di Scienze Naturali, troviamo il laboratorio sul funzionamento del corpo umano, la macchina uomo. Il laboratorio macchina uomo indaga attraverso esperienze di laboratorio il funzionamento del corpo umano, fornendo semplici dimostrazioni dei processi che avvengono all'interno dell'organismo umano. Proviamo insieme a fare un esperimento sull'apparato digerente. Ma cosa ci serve? Due campioni. Campione 1, cracker sbriciolato. Campione 2, sarà un cracker masticato. Cos'altro ci serve? Contenitore A, dove mettere il campione 1. Contenitore B, dove mettere il campione 2. E questo che cos'è? È il nostro reagente. Si può trovare anche in farmacia. È la tintura di iodio. Che è stata allungata con dell'acqua. In questo caso il colore non sarà più rosso, ma arancione. Ma non manca qualcosa? Che fine ha fatto il campione 2? Andiamo a procurarcelo. Dove eravamo rimasti? Procedimento. Usiamo la tintura di iodio, colore di partenza arancione. E la mettiamo nei due campioni. Prendiamo 5 o 6 gocce. E lo mettiamo nel campione A. Prendiamo 5 o 6 gocce. E lo mettiamo nel campione B. Cosa osserviamo? I due colori. Sono arancioni? Vediamo. Campione 1. Campione 2. Notate delle differenze? Quale può essere la spiegazione? Nel campione 1 la tintura di iodio reagisce con l'amido del cracker triturato e colora la soluzione di nero-blu. Nel campione 2 la tintura di iodio reagisce con l'amido del cracker masticato e colora la soluzione di marrone-beige. Solo nel cracker masticato l'amido è stato attaccato e demolito dalla saliva contenente lattialina, un enzima che opera una prima digestione dell'amido e ne facilita l'assorbimento. Nel cracker che non ha subito il passaggio in bocca, l'amido è intatto, non è avvenuta la scomposizione degli zuccheri. A presto, con tanti altri esperimenti e laboratori. Ciao! Ciao! Ciao!